Le pareti sono rifinite in vinil nero, le manette e i ferri per i piedi sono di acciaio cromato, lo trovo pichissimo. Brillante Denise, si sentono quasi le frustate, che ne pensi Lemely? Incredibile. Mi sono preso la libertà Joseph di far costruire questa frustona dagli attrezzisti. Ho pensato che questo colore risalta e aggiunge anche un piccolo tocco di femminilità. Ah, molto bene e posso provarlo. Tutta questa creatività mi ha messo fame, vuoi unirti a me? Potremo iniziare con il pranzo. E dopo il pranzo? Lascia che il mio appetito ti faccia la guida. Ci sto di spaziare, ho i flori. Ma dove vai con la signorina? La seduta non è finita. Joseph caro, è veramente troppo per me e per di più a stomaco vuoto. Ciao. Credo che dovrei rivedere quei bozzetti, Joseph. Sono squallidi. Signor Rothman, stai zitto, stronzo. Villano. Grazie, Emilio. Grazie a lei, signor Lemio. Penso che abbiamo esaurito il soggetto di Joseph Rothman. In una città piena, piena di gente stupida, diciamo che lui ne è senza dubbio il degno prototipo. Giudichi la gente facilmente? È facile giudicare Rothman. Che cosa vuoi da me? Voglio fare il film dal tuo libro e voglio fare l'amore con te. In quest'ordine? Andiamocene via di qui. Visto che siamo in California, facciamo qualcosa di bello.